Come Presidente abbiamo parlato dei primi mesi, la situazione è un po' particolare, però c'è un confronto a Roma molto interessante, vogliamo parlare di questo? Sì, noi ci stiamo preparando, stiamo lavorando ovviamente per partecipare alla grande manifestazione che ci si tratterà a Roma il 17 di giugno prossimo, quindi sabato prossimo. Una manifestazione che prima di tutto vuol parlare di democrazia del Paese perché il 28 di maggio dovevamo votare dei quesiti referendari, ovviamente c'era un referendum, per quanto riguarda l'abolizione dei voucher. Il Governo facendo uno strappo alla democrazia di questo Paese ha reinserito la normativa sui voucher. Ancora una volta in questo Paese si parla di democrazia ma insieme di precarietà. non si cambia il Paese continuando a comprimere quelli che sono i diritti del lavoro e quindi è per questo che chiediamo una forte partecipazione alla manifestazione. Grazie. 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 Grazie.